E benvenuti tutti in MS Cars, chiaramente unica grande sede Corso Primo Levi 23C per quanto riguarda la vendita e da dove stiamo trasmettendo in questo momento? Da Corso Primo Levi 35C, dove qui troverete la nostra officina dedicata, specializzata Suzuki, autorizzata a Piaggio Commercial e da pochissimo, grande novità, concessionari ufficiali in Malaguti, chiaramente Moto, dove potete comprarle e ripararle. Riparazione di tutti gli scooter, quindi specializzati anche su quello e riparazione su tutte le marche, perché chiaramente su tutto l'usato che vi diamo, ve lo diamo con garanzia ufficiale europea e totalmente tagliandato. Ma velocissimamente vorrei parlare un attimino di Piaggio, quindi qui troverete tutta la gamma Piaggio, quindi dallo chassis a partire da 17.4, lo potete scegliere ruota singola, ruota gemella, due passi per la singola, due passi per la gemella, potete sceglierlo con cassone fisso, con cassone ribaltabile oppure farvelo carrozzare come più vi aggrada, quale serve per la vostra attività. Come questo che vedete alle nostre spalle, finalmente arrivato, parliamo di furgone, quindi di van up, uscito fuori dall'ottima penna di Umberto Palermo della Mole. Qui pensate, un furgone che siamo sotto i 5 metri, che vi permette di caricare fino a 10 quintali. Chiaramente tutti i motori 1.5, dove potete scegliere se averli o GPL o metano. Un benvenuto a tutti anche da Andrea Zoppelletto, il vostro consulente Suzuki qui in MS Cars. Come sempre l'obiettivo della mia consulenza è quello di aiutarvi nella scelta della nuova Suzuki, ascoltando le vostre esigenze. Ma oggi iniziamo subito la puntata dall'ultima novità in casa Suzuki, la nuova S-Cross Hybrid. Pensate, Queen MS Cars disponibile in pronta consegna. Con l'innovativa formula di acquisto più valore MS Cars, scegliamo insieme l'anticipo e creiamo la rata. Suzuki S-Cross Hybrid, perfetta per tutti i giorni perché è 100% ibrida, perfetta sempre grazie alla tecnologia 4WD All Grip. Un'icona in casa Suzuki, la nuova Vitara Hybrid, ordinabile anche con la nuovissima motorizzazione 1.5 Hybrid, cambio automatico, 4 nuote motrici, venite a scoprirla. Suzuki Swift Hybrid e Suzuki Ignis Hybrid, entrambi disponibili 2 o 4 ruote motrici, cambio manuale o cambio automatico, con rate a partire da 199€ al mese. Scegliamo insieme l'anticipo e creiamo la rata. Qui in MS Cars le vostre esigenze sono sempre al primo posto e concludiamo la puntata di oggi con il nuovo Suzuki Jimny Pro. Ogni dettaglio per aiutarvi nell'offroad più estremo. Vi ringrazio e che dire, vi aspetto qui in concessionaria per scegliere la vostra nuova Suzuki. Un ciao da Edoardo Suma, sono qui per presentarvi la super novità MS Cars. Malaguti, marchio storico italiano dal 1930, vendita e assistenza ufficiali qui in Corso Primo Levi 23C. Venite a scoprire come pagare la vostra mobilità su due ruote con le promozioni autunno e inverno targate MS Cars. Vi aspetto! Ciao amici di Seinauto, quest'oggi ci troviamo dalla carrozzeria veronese che dal 1964 è a disposizione per ogni tipo di autoriparazione, servizio di soccorso stradale, recupero danni e vettura sostitutiva. La carrozzeria veronese è autorizzata Toyota. E non dimentichiamo che ci occupiamo di manutenzione, restauro di auto d'epoca e Vespa. Alberto, oggi noi però andiamo a scoprire una elaborazione molto particolare, oserei dire unica nel suo genere, vale a dire l'effetto marmorizzato applicato appunto a una vettura. Questa splendida Toyota Land Cruiser è stata totalmente smontata, letteralmente smontata, guardatevi le immagini, per realizzare un lavoro al pari della verniciatura originaria. Raccontaci qualcosa. Allora, fondamentalmente dopo essere stata smontata l'abbiamo verniciata tutta di nero e da lì in poi abbiamo iniziato a creare l'effetto marmo con un gel particolare, dopodiché asciugato questo gel abbiamo iniziato a dare questo colore verde che è un inchiostro fondamentalmente. Ne abbiamo date sei mani circa per dare questo effetto, dopo aver dato il verde si è proceduto col trasparente, asciugato, seppiato e ridato di nuovo il trasparente. Si usa tipo un domopac, cioè siete in cucina, accontami. Si, per farlo si usa tipo un domopac, viene appoggiato sul gel e si ottiene questo effetto marmorizzato, non ti dico più di tanto perché lo teniamo un po' segreto. Ah ok, va bene, va bene, ok. È davvero incredibile Alberto, poi adesso che la guardo con maggiore attenzione noto due cose in particolare, personalmente, l'effetto tridimensionale e di quanto il colore cambi, quasi fosse un camaleonte, dal verde smeraldo al nero profondo. Si, questa è la sua particolarità, il bello è che si possono fare diverse tonalità, praticamente qualsiasi colore si può fare con questo effetto. In più poi abbiamo continuato con la personalizzazione degli interni, facendo degli interni in pelle cuciti in modo particolare, oscuramento vetri, dettagli verniciati dentro, luci a led e quant'altro. Complimentoni, complimenti a te Alberto, a tutto lo staff, tra l'altro complimenti perché la carrozzeria veronese è l'unica a Torino a fare questo effetto marmorizzato, venitelo a scoprire via Fiesole 4C a Torino appunto e seguiteci anche sulle nostre pagine social. Grazie mille Alberto. Grazie a te, ciao a tutti. Grazie a voi, alla prossima. Ciao a tutti, ben ritrovati da Roberto Terranova, ci troviamo in brevetto auto via Castelgomberto 143 Torino. Partiamo subito con le promozioni, allora vediamo de' Volkswagen, fantastica Volkswagen Polo 1000 benzina TFSI, pensate allestimento style chilometri zero, la nostra proposta con quasi il 15% di risparmio da listino, quindi 20.900 euro. Continuiamo la carrellata con una T-Cross anch'essa chilometri zero, pronta a consegna, la nostra richiesta 22.900 euro. Continuiamo con una vettura usata, usata per modo di dire perché comunque una Lancia Y 1.269 cavalli GPL, la nostra richiesta è 12.400 euro. Tutte le vetture sono finanziabili con anticipo zero, possibilità di fare la formula con valore futuro garantito, senza sorprese, senza imprevisti, quindi qui la trasparenza vige. 595 Abarth, fantastica, pari al nuovo, pensate 11.000 chilometri, la nostra richiesta 19.900 euro, anticipo zero, possibilità di avere rate da 199 euro al mese. Appena ritirato, fantastico cubo, 1.300 multijet, full optional, unico proprietario con cambio automatico, introvabile sul mercato dell'usato, la nostra richiesta 8.950 euro, ricordo cambio automatico. New Beetle Cabrio, 1.900 TDI, 101 cavalli, perfetto, interni in pelle, climatizzatore, fari allo xeno, lava-fari, sensori di parcheggio, cerchi in lega, cappotta elettrica, vettura veramente tenuta in maniera maniacale, pensate alla nostra richiesta è 6.900 euro. 595 Turismo, 160 cavalli, interni in pelle, climatizzatore, fare allo xeno con lava-fari, cerchi da 17 pollici, vettura tenuta in maniera maniacale, la nostra richiesta 13.900 euro. Abbiamo le vetture per qualsiasi esigenza, qui vediamo una Polo 1.2 benzina, 5 porte Comfortline, pensate alla nostra richiesta è 2.500 euro. Continuiamo, per chi volesse sempre spendere poco, con una bella Nissan Juke 1.5 DCI, quindi gasolio, pensate alla nostra richiesta è 8.900 euro. Brevetto auto e vendita, assistenza, nuovo, usato, chilometri zero, aziendali, quindi tutto su misura, finanziamenti, polizie assicurative, tutto di più, noleggio a breve e a lungo termine, quindi veniteci a trovare in via Castelgomberto 143, perché sicuramente vi costruiamo la vostra automobile su misura.